E' iniziato ufficialmente martedì 18 agosto la stagione 2020-2021 del Castellazzo. I biancoverdi hanno infatti iniziato la preparazione per il prossimo campionato di eccellenza dove vivrà il derby tutto Alessandrino con l'acqui. Un'annata che vuole essere di calcio giocato nonostante quell'incertezza causata dalla pandemia da Covid-19 che sta rendendo tutto più complesso. L'entusiasmo poi ce l'abbiamo dentro noi. Siamo stati sei mesi senza calcio quindi ci mancava il calcio e adesso finalmente ce l'abbiamo. Dopo la ripresa degli allenamenti il prossimo passo della dirigenza del Castellazzo sarà quella di completare la rosa. Completa no perché ci siamo trovati a quattro giorni dall'inizio della preparazione senza allenatore quindi per una decisione che abbiamo preso insieme. Quindi ripartire da capo sicuramente i giocatori non c'erano. Adesso abbiamo fatto una rosa direi giovane ma già si può iniziare a giocare a calcio. Si può iniziare a giocare a calcio. Se ci capita qualche buona occasione interveniamo e cerchiamo di migliorare la squadra. Direi che oggi ci manca un 2001, un 2002 bravi e poi siamo quasi a posto. Tante conferme tra le fila del Castellazzo ma anche diversi volti nuovi per la squadra del presidente Cosimo Curino. Tra questi anche il neotecnico Fabio Nobili. Fabio è un amico, un amico che ci segue da tantissimi anni. Mi ricordo facevo l'allenatore dei ragazzi del 90-91. Lui ci seguiva sempre, veniva a vedere le trasferte degli allievi del Castellazzo. Ti parlo di 20 anni fa, quindi lui è sempre stato un tifoso del Castellazzo e un amico. Io gli ho sempre detto che prima o poi, se c'ero ancora io, avrebbe fatto l'allenatore del Castellazzo. Vabbè, prima di smettere di fare il presidente ho dovuto mantenere questo progresso. Fagli fare l'allenatore. Adesso tocca a lui cercare di far bene con quello che ha in mano. Se poi riusciamo a fare qualcosa in più per rinforzargli la squadra, ci impegniamo. Ce la metteremo tutta per fargli fare la figura, lui e anche noi. Ma tra i vanti del Castellazzo c'è sicuramente anche quello della formazione dei tanti giovani interessanti che ogni anno approdano in prima squadra. Tutti gli anni portiamo in prima squadra 5-6 ragazzi della Juniors. Poi non è un obbligo che questi ragazzi devono giocare, poi devono meritarselo. Noi gli diamo questa opportunità, li portiamo, li facciamo sentire ai giocatori della prima squadra. Poi ci sono quelli bravi bravi che si impegnano, ce la mettono tutto, capiscono le difficoltà della categoria. Ce la fanno e rimangono e quelli che non ce la fanno poi andranno a giocare in categoria inferiore. Però portarne già 5-6 tutti gli anni in prima squadra non è poco per noi che siamo un paese. Quest'anno per causa di forza maggiore ne abbiamo parlato qualcuno in più. Invece di 5-6 magari una decina. Speriamo che 3-4 rimangano fino alla fine. Speriamo che 3-6 magari una decina. Speriamo che 3-6. Speriamo che 3-6.